la corte di giustizia europea ha finalmente messo un punto fermo sul cbd a livello appunto di unione europea nel senso che è arrivata la sentenza tanto attesa ed è una sentenza che ha dichiarato che il cbd non può essere considerato uno stupefacente e che i prodotti a base di questo cannabinoide devono essere liberamente commerciati in tutta l'unione europea questa causa era partita dalla francia perché cos'era successo era successo che da un'azienda in repubblica cieca erano stati importati in francia degli eliquid per le sigarette elettroniche contenenti cbd quello che poi era successo era che queste due aziende erano state condannate al pagamento di un'ammenda perché la francia per l'ordinamento francese era consentito importare solamente fibre e semi di canapa e non altri prodotti per cui il giudice di quel caso aveva ritenuto di rivolgersi alla corsa di giustizia europea perché si sollevava un problema tra le leggi di uno stato membro e la libera circolazione delle merci e gli era arrivata la sentenza che appunto stabilito che il diritto alla circolazione delle merci è superiore alle leggi vigenti di uno stato viene spiegato che il cbd non può essere considerato uno stupefacente che tuttavia gli stati possono prendere dei provvedimenti per tutelare la salute delle persone se lo ritengono opportuno ma che queste decisioni devono essere suffragate da prove concrete e non ipotetiche mettendo quindi sicuramente un punto fermo sul fatto che in unione europea il cbd non potrà essere considerato stupefacente questa cosa naturalmente si rifletterà su tutta l'unione europea italia compresa ma non vuol dire non equivale a un libera tutti non significa che automaticamente tutto ciò che contiene cbd adesso avrà uno status legale bisognerà vedere che cosa succederà bisognerà vedere per esempio che cosa succederà con il decreto che è stato sospeso bisognerà vedere se saranno ratificate a dicembre le raccomandazioni dell'oms insomma bisognerà vedere come si procederà in questa regolazione perché nonostante questa sentenza il commercio di prodotti relativi alla canapa rimane sempre legato alle destinazioni d'uso che è una cosa che mi ha spiegato l'avvocato bulleri che ho chiamato appunto ieri per scrivere un articolo in tema e quello che lui dice è proprio questo nel senso che lui spiega che la sentenza avrà un effetto domino su tutti quei paesi che hanno una normativa che si ostinava a voler limitare l'uso della canapa a fibra e semi ma come detto non è un libera tutti anche perché questa sentenza fa riferimento esplicito alle sigarette elettroniche legalmente prodotte in repubblica cieca e per quello che riguarda ad esempio la cannabis light in italia si resta legata alle destinazioni d'uso cosa significa significa che finché non sarà autorizzato l'uso umano sarà difficile che la commercializzazione di questo prodotto sia completamente normato ad ogni modo le cose che si profilano all'orizzonte secondo me ed è una mia opinione personale sono due per quello che è l'olio al cbd e prodotti assimilabili io credo come dico da anni ma no perché sia un leggente perché mi è stato detto da esperti di settore con cui ho parlato negli anni uno di quelli che ha insistito di più per esempio su questa idea il dottor ternelli che è un farmacista molto esperto in materia che collabora con dolce vita e da anni e almeno dal 2013 da quando era entrato in commercio il sativex che è composto sia da cbd che thc che si ragionava sul fatto che probabilmente si sarebbe arrivati a stabilire delle percentuali per le quali sopra quella percentuale di concentrazione il prodotto viene considerato un farmaco e idealmente questa percentuale potrebbe essere il 10 per cento mentre prodotti che contengono cbd al di sotto di questa percentuale potrebbero essere considerati ad esempio degli integratori l'altro grosso capitolo che si apre è la questione della cannabis light in italia e qualcosa si inizia a muovere nel senso che quando era stato emanato il decreto del ministero della salute verso sempre in ottobre mi pare verso metà ottobre l'agenzia delle dogane dei monopoli aveva inviato una comunicazione dicendo che negli esercizi di vicinato le farmacie e parafarmacie avrebbero dovuto presentare un'autocertificazione spiegando che non vendevano cannabis light fondamentalmente in fiorescenze contestualmente sappiamo che sono partiti anche dei controlli nelle tabaccherie che vendevano questi prodotti non si sa quanti sono stati fatti dei sequestri a chi vendeva le infiorescenze anche qui non si sa a quante tabaccherie ma i controlli sono iniziati e stanno avvenendo su questa cosa potete leggere uno speciale che ha pubblicato fuori luogo dedicato proprio a questa questione insomma quello che si adombra nell'orizzonte è un possibile monopolio di stato sulla cannabis light perché l'agenzia naturalmente l'agenzia delle dogane dei monopoli lo presenta come unica soluzione possibile essendo la cannabis light un prodotto assimilabile al tabacco anche se sappiamo che in realtà non è l'unica possibilità di possibilità ce ne sarebbero diverse anche perché la cannabis può essere semplicemente considerata come un sostitutivo del tabacco si potrebbero seguire tutta una serie di regolamentazioni come che seguono quelle del tabacco ma non è la palissiano che diventi un monopolio anche se sembra che ci si muove in questa direzione sia per le dichiarazioni dell'agenzia delle dogane dei monopoli sia per l'insistenza della fit che la federazione italiana tabaccai secondo la quale è uno scempio che la cannabis light venga venduta nei negozi senza tutta la tracciatura che ha invece il tabacco io qua mi permetto di dire che secondo me uno scempio sarebbe se la cannabis light fosse venduta da negozianti di cui non ne sanno nulla che non conoscono il prodotto che non hanno mai studiato che cosa sia la canapa mentre noi sappiamo che la grande maggioranza dei grow shop italiani è stata avviata da persone che alla canapa ci hanno dedicato la vita che la conoscono che che sanno da dove arriva che hanno dei rapporti con le aziende agricole che la coltivano insomma si è già creata in italia una filiera agricola e commerciale della cannabis light non è una necessità che ci sia questo monopolio anche se oramai è una possibilità sempre più concreta tant'è che questa idea è stata ribadita in un comunicato stampa anche dalla col diretti che il 19 novembre sempre a proposito di questa sentenza della corte di giustizia europea ha fatto un comunicato stampa e tra le righe scrivono anche che col diretti sta lavorando da tempo con la federazione nazionale dei tabaccai per costruire una filiera di produzione certificata che possa offrire tutte le garanzie necessarie alla tutela della salute e naturalmente conforme alla disciplina prevista per le rivendite di generi di monopolio essendo i prodotti da fumo assimilati al tabacco quindi per l'idea che mi sono fatto io le possibilità future sono queste che gli oli di cbd vengano identificati come farmaco soprano percentuale come integratore sotto e per la cannabis light c'è un serio rischio che quando sarà finalmente normata come sostitutivo del tabacco ci si allunghi la manina del monopolio e che faccia questa fine allo stato dell'arte nulla è ancora deciso e naturalmente noi su dolci vita vi terremo aggiornati con tutte le evoluzioni del caso la puntata di cannabis news finisce qui vi rimando la settimana prossima con una nuova puntata raccomandandovi sempre di leggere il nostro sito dolci vita online punto it e di iscrivervi al nostro sito youtube al nostro canale youtube scusate dove noi postiamo sempre le nostre nuove rubriche nuovi contenuti video e perché il canale come sapete lo stiamo implementando il futuro è verde canapa ci vediamo settimana prossima ciao a tutti